Il formarsi del ghiaccio sugli alberi e sugli oggetti che offre immagini spettacolari prende il nome tecnico di Galaverna ed è stato proprio questo fenomeno a causare da sabato fino alla serata di ieri la chiusura della statale 28 dal Colle di Nava fino ad Ormea. Gli alberi appesantiti dal ghiaccio si sono infatti spezzati in diversi punti della strada cadendo al suolo e abbattendo in alcuni casi i cavi della corrente elettrica. Per tutta la giornata di ieri la zona del Colle di Nava è rimasta senza energia elettrica. Per ripristinare le normali condizioni sono dovuti intervenire i tecnici dell'ANAS e quelli dell'ENEL che hanno lavorato in condizioni difficilissime per tutta la domenica. Domenica di lavoro anche per i carabinieri del comando stazione di Nava che oltre a chiudere al traffico la strada statale hanno dovuto interdire alcune zone al pubblico a cominciare dal grosso prato vicino ai forti sempre per l'alto pericolo causato dalla caduta di alberi coperti di ghiaccio. Il grande freddo nel vicino Piemonte per la precisione in Val Casotto a Garessio 2000 ha portato un lupo ad avvicinarsi ai centri abitati. Questo splendido esemplare è stato ripreso mentre corre lungo la strada uno spettacolo davvero singolare.